sono qui, convocati dal Pontificio Consiglio della Cultura, medici, operatori sanitari e sociali. In questo contesto è fondamentale che aumenti la nostra consapevolezza della responsabilità etica nei confronti dell'umanità e dell'ambiente in cui viviamo. Mentre la Chiesa elogia ogni sforzo di ricerca e di applicazione molto alla cura delle persone sofferenti, ricorda anche che uno dei principi fondamentali è che non tutto c'è che è tecnicamente possibile o fattibile e perciò stesso eticamente accettabile. ...filantropi e in particolare... ... ... ...